Anche a Biategrasso torna al centro della campagna vaccinale, questa volta per la terza dose, questa volta all'ospedale Cantù inserito dall'ASST ovest milanese negli hub, dove è già possibile prenotare la dose booster del vaccino contro il coronavirus. Una scelta che arriva in un momento in cui, da magenta, arrivano le prime indiscrezioni per cui anche al Fornaroli potrebbero riprendere i ricoveri per Covid. L'attività del centro vaccinale del Cantù sarà effettuata dalla cooperativa IML Medici di Medicina Generale. Questo avvicendamento permetterà ai cittadini un ampliamento dell'orario di accesso al servizio, ma anche un incremento dei posti disponibili per usufruire più agevolmente dell'offerta vaccinale. Da questo sabato riaprirà l'hub vaccinale al MUVIN di Cerro Maggiore e nello stesso momento sarà attivato nel weekend un ulteriore polo vaccinale presso il nuovo ospedale di Legnano. Restano comunque sempre attivi i centri degli ospedali di Cugiono e Magenta. La riapertura prevede ancora una volta un notevole sforzo organizzativo, ma l'esperienza acquisita in questi mesi, dice la SST ovest milanese, permetterà al personale sanitario, amministrativo e impegnato di ottimizzare l'attività di vaccinazione, anche in considerazione dell'ampliamento di orario e soprattutto di un sostanziale incremento dei posti disponibili. La nostra è una macchina organizzativa rodata che ha dimostrato di essere flessibile e dinamica, è il commento del direttore generale delle SST ovest milanese Fulvio Odinolfi, e siamo pertanto in grado di aumentare la capacità di somministrazione del vaccino che, anche con il richiamo della terza dose, saprà proteggere adeguatamente i cittadini dal virus.